Proprio in questi giorni i pensionati con più di 75 anni riceveranno più soldi di quelli che hanno ricevuto sinora. Come avevamo promesso, quando si è formato il governo abbiamo subito aumentato le pensioni minime. Continueremo a lavorare anno dopo anno perché tutti i pensionati e i disabili possano arrivare ad avere almeno 1.000 euro al mese per 13 mensilità. Da liberali e da cristiani abbiamo ben chiaro il fatto che è doveroso prendersi cura dei più deboli di chi non può farcela da solo, di chi è rimasto indietro. E l'Italia che noi vogliamo è un paese che non può dimenticare nessuno. Altrettanto decisivi sono i tempi d'attesa per le visite specialistiche, per gli esami e per i ricoveri nel settore della sanità pubblica. Noi anche qui ci impegniamo ad immezzare gli attuali tempi di attesa. Anche per questa ragione è particolarmente importante il voto che il 12 e il 13 febbraio coinvolgerà due importantissimi regioni italiane, la Lombardia e il Lazio. È necessario che queste regioni dispongano di amministratori all'altezza di questo nostro grande impegno. E per questa ragione abbiamo individuato due candidati che hanno l'esperienza e la capacità per poterlo fare. Attilio Fontani in Lombardia, che ha molto ben governato nei momenti più difficili, e Francesco Rocca, che è stato un validissimo capo della nostra Croce Rossa per molti anni. Dunque, è importante andare a votare. È fondamentale scegliere il centro-destra. È decisivo votare per forza Italia. Mi raccomando.